Buongiorno Friuli, l'approfondimento sportivo dedicato da Udinese Channel a quelle che sono le notizie dedicate al mondo del panorama bianconero. Andiamo in questa mattinata che ci porta anche alla vigilia della prima di campionato, un sabato che anticipa quella che è la sfida tra Juventus e Udinese, a leggere quelle che sono le principali tematiche. Non si parla solo della vigilia, della sfida contro i torinesi sul messaggero Veneto, perché ancora una volta in prima pagina si tratta anche quello che è l'altro tema molto caldo, quello relativo al nome dello stadio. L'Udinese promette il nome Friuli resta ma serve la nuova arena. Allora partiamo proprio da questa notizia, questa doppia pagina, pagina appunto 16 e 17, scivoliamo sulla pagina 16 dove c'è un'intervista al direttore amministrativo Alberto Rigotto, un'intervista dal titolo molto chiaro, sponsor marchio europeo, ma il nome Friuli rimarrà al direttore dell'Udinese Rigotto, ha sottolineato portiamo soldi al comune per altri impianti. c'è una lunga intervista proprio a quello che è il direttore amministrativo Alberto Rigotto, che sottolinea anche quella che è la reazione, si aspettava un coro di critiche, la domanda, mi piace ricordare che anche l'operazione stadio aveva registrato molte critiche, poi ragionando assieme la deriva del Consiglio Comunale è passata con 39 voti a favore, uno contrario, e una sola astensione, perciò questa è la risposta alle critiche emerse nella giornata di ieri, vedremo subito sotto anche quelle che sono state alcune reazioni, e poi si è sottolineato anche quella che è il passaggio chiave, il nome Friuli, nessuno vuole toccarlo, non abbiamo mai preso in considerazione alternative alla denominazione a cui tutti siamo legati, andando in coerenza con la delibera del Consiglio Comunale 2011, vogliamo avere un voto del Consiglio Comunale, anche se tecnicamente il nome dello stadio non cambia, quindi questa è la precisazione, si è sottolineato anche che l'indicazione stadio, insomma, rappresenta quello che è l'impianto, ma si va verso il mantenimento, soprattutto di quella che è la definizione Friuli, si è parlato anche, poi vi lasciamo le altre pieghe all'intervista completa sul quotidiano in edicola, anche di quella che è la trattativa, la possibilità che la trattativa vada in porto, sarà il primo stadio in Italia a chiamarsi come lo sponsor, la Juventus operazione non è riuscita, la risposta è Alberto Rigotto, perché la trattativa è andata per le lunghe, mentre il Mappai Stadium di Reggio Emilia porta di fatto quello che è il nome dell'azienda, del proprietario che è Squinzi, il presidente di Confindustria, è un'operazione diversa da quella di Udine che resta la prima, un'operazione che ha suscitato diversi commenti nella parte, nel taglio basso di pagina, si sottolina come sui social i tifosi si siano scatenati sul web, rabbia e delusione in centinaia sono riversati su Facebook per urlare tutta la loro contrarietà all'iniziativa, poi c'è una seconda parentesi dedicata proprio alle reazioni, più di stampo politico, oltre che legata a quello che è il panorama dei tifosi, perché ci sono le risposte da parte del sindaco, Furions, il non strumentalizzare, il sindaco che ha avvertito se la proposta diventa una battaglia politica perderemo tutti, mentre Riccardi, mozioni in tutti i consigli comunali, basta vendere il Friuli, c'è la scritta Stadio Friuli nella foto all'ingresso del nuovo impianto, e poi ci sono altre due parentesi, una del forzista Werly, la delibera approvata nel 2011 vieta di cambiare la denominazione, la trattativa deve essere analizzata in aula, e l'ingegner Parmigiani non credo sia giusto prendere soldi per snaturare l'impostazione data per portare la nostra terra nel mondo. Alcuni dei virgolettati, una mozione, una politica, quella dell'Udinese, che prenderà ovviamente in esame tutte queste situazioni, per poi andare a prendere la decisione definitiva, l'Udinese che ha sottolineato comunque la necessità di reperire fondi anche per quello che riguarda il 10%, che è ipotizzato per quella che è anche la parte da dedicare al Comune, per quanto concerne anche una ristrutturazione, si ipotizzava anche di quelle che sono le strutture sportive della città, una discussione che andrà avanti anche nelle prossime settimane. Se c'è più tempo appunto per discutere di questa tematica, ce n'è molto meno per andare ad affrontare quella che è la prima di campionato, che è imminente, domani ai 18 parte la Serie A per i bianconeri di mister Stefano Colantuono, ora andiamo anche all'interno delle pagine sportive della prima sportiva Udinese che va verso l'esordio, Udinese che gioca contro la Juve ma anche contro la Cabala. In 20 anni di Serie A, questa è una statistica, solo sei prime vincenti e una soltanto in trasferta. Nel 2011 col Lecce, c'è anche la foto proprio di quella giornata. L'ultima vittoria risale la scorsa stagione con la sfida tra Udinese Empoli chiusa sul punteggio di 2-0, tanto per cambiare, con due sigilli di Totò, l'unica in trasferta invece nel 2011-2012 quando segnarono Dujan Basta e poi proprio Totò di Natale, un Lecce Udinese finito 0-2. Tornando vicino al titolo della pagina, si parla anche di Colantuono, anche Colantuono da quattro anni non riesce a vincere alla prima giornata da quando è tornato in Acola Atalanta, ha collezionato due pari e altrettante sconfitte. Ci sono poi, c'è una tabella dedicata a tutti quelli che sono stati gli esordi bianconeri, esordi che nelle ultime stagioni hanno visto l'Udinese vincere appunto nella scorsa stagione con l'Empoli 2-0, proprio con il Lecce nel 2011-2012. Poi un avvio non spesso facile, due sconfitte per 2-1 nelle stagioni 2012-2013, 2013-2014 rispettivamente comunque contro due avversari importanti contro Fiorentina e Lazio. Lo 0-1 caprì il ciclo di Guidolin in casa contro il Genoa e l'ultimo pari risale al 2009-2010 nel 2-2 sempre interno contro il Parma, targato da Marino. Perciò queste le situazioni per quello che riguarda gli ultimi avvii in campionato. Logico che non è un avvio semplice nemmeno il prossimo, perché si ha di fronte a quella che è la formazione italiana che ha fatto meglio nell'ultima stagione in tutte le competizioni, è arrivata anche all'atto finale della Champions, che si è fermata soltanto dal Barcellona. Una Juventus diversa, dovrà essere un po' diversa anche l'Udinese rispetto anche a quella che è stata la prima uscita stagionale, dove ha segnato Guilherme che però si è fermato nel corso dell'allenamento, o meglio nel prima, precedentemente l'allenamento di ieri, si ferma Guilherme e cola sulle spine esami per valutare l'entità del risentimento muscolare. Ieri il brasiliano non ha preso parte alla seduta, si scaldano Pinzi e Iturra. Dobbiamo aspettare i referti e vedere il da farsi, il virgolettato abbastanza eloquente del direttore sportivo Cristiano Giaretta, con anche una smorfia di contrarietà, visto che Guilherme sembrava essere decisamente in palla. Si parla anche delle possibilità di sostituzione dello stesso Guilherme, una soluzione può essere Pinzi centrale con Conè e Fernandez Mezzali, oppure Iturra centrale provato in allenamento ieri con Badu e Merkel ai fianchi, situazioni che vedono proprio un nuovo ballottaggio. Se Guilherme prima era in ballottaggio ma con grandi chance di poter partire da titolare, adesso questo infortunio lo mette fuori dai giochi e il ballottaggio per il suo posto diventa questo, quest'altro con Iturra e Pinzi, ovviamente in ballottaggio per quella che è un ruolo cardine, anche perché, ripetiamo, si va all'Iventus Stadium, uno stadio in cui la mediana sarà fondamentale, anche perché, secondo le discrezioni di informazioni legate a Max Allegri, che vedremo nella pagina successiva, si giocherà praticamente a specchio. Prima di andare a vedere proprio il focus dedicato all'avversaria, leggiamo anche quella che è un passaggio dell'intervista al doppio ex, parliamo di Iaquinta e quel cuore diviso a metà, spero finisca 0-0. Il doppio ex centravanti della prima Champions dell'Udinese svela, ricordo più dolce, la tripletta al Panathinaikos, di cui c'è proprio anche lo scatto con l'esultanza, si scorge alle sue spalle anche un giovane Giampiero Pinzi, c'è anche un'altra foto dedicata invece ad un evento più recente, Vincenzo Iaquinta ha fatto capolino all'Ignano nel Camp Basket guidato da Giulio Melilla, si parla anche poi di quella che fu la sua reazione celebre, un gol da ex contro i tifosi, ho reagito di rabbia e mi è spiaciuto, purtroppo sono un impulsivo, ragiono solo dopo sulle cose e sono stato male, un episodio che non fece assolutamente piacere ad alcuni tifosi dell'Udinese che non gliel'hanno tuttora perdonato. Vediamo invece quelle che sono proprio le situazioni legate all'avversaria, alla formazione di Max Allegri, convinto del vecchio 3-5-2, e Marchisio che suona la carica per i suoi compagni di squadra, la decisione si scrive sembra essere stata presa, contro l'Udinese sarà 3-5-2, restano da risolvere solo un paio di dubbi di formazione, visto che in difesa si gioca in una maglia titolare Chiellini, reduce da uno stop e Caceres con il primo favorito sull'Uruguayano, mentre a centrocampo Sturaro in vantaggio sull'ex Pereira per completare la linea con Padoin e Pogba. Marchisio, KO per 20 giorni, ieri si è fatto sentire con un programma su Twitter, manca sempre meno l'inizio del campionato, domenica si torna nella nostra casa tutti pronti e carichi per una nuova stagione. Ieri non si è visto allo Juventus Center di Vinovo il brasiliano Alexandro, che dopo la firma è stato costretto a rientrare a Do Porto per svolgere alcune pratiche burocratiche, anche lui ovviamente non ci sarà al pari di quelli che sono gli infortunati, diversi gli elementi non ha a disposizione di Allegri, che però dovrebbe ritrovare quantomeno Chiellini, che era uno degli elementi in dubbio, anche se c'è ancora aperto questo balottaggio con Caceres. Andando nella parte alta della pagina, poi ci sono alcune notizie, si parte con quelle che sono le indiscrezioni su quello che è il primo anticipo Verona-Roma, il secondo anticipo, quello tra Lazio e Bologna, partono le due romane, una alle 18, l'altra alle 20.45, c'è il quadro completo delle gare con gli arbitri, vi ricordiamo la designazione per quello che concerne l'Udinese, con Mazzoleni per la sfida con la Juventus, e una parentesi anche sui bookmakers che non vedono assolutamente l'Udinese favorita, ma d'altronde, insomma, allo Stadium la Juventus non perde da due anni e un girone, quindi, insomma, non è sicuramente facile pronosticare una vittoria in trasferta quando si parla di Juventus Stadium, in generale, per tutte le formazioni del nostro campionato, non viene prevista facilmente nemmeno per l'Udinese, la vittoria viene data a 1.30, pareggio 5.50, sconfitta a 10, e queste sono le quote, speriamo di sovvertire il pronostico, anche perché questo regalerebbe a chi punta sull'Udinese una somma decisamente intrigante e interessante. Andiamo nella parte bassa della pagina, dove c'è un attacco del Chelsea, secondo le indiscrizioni, tra l'altro, ieri c'è stata anche una durissima reazione da parte di José Mourinho nei confronti di Allegri per alcune dichiarazioni, Allegri che ha parlato più volte di Oscar, ieri Mourinho ha detto chiaramente io non parlo di Pogba, a differenza di quello che fa il mio collega in Italia, una puntura che ha fatto capire l'attacco, ma nonostante questo, l'attacco del Chelsea ci sarebbe per Paul Pogba, la Juve alle prese con la tenenovela trequartista e con le avance di Mourinho non pubbliche, ma private, soprattutto legate a quella che sarebbe questa maxi-offerta. In Inghilterra sembrano avere veramente il portafoglio illimitato, anche perché ieri il City ha definito quello che è l'acquisto di De Bruyne, si parla di 70 milioni che porterebbero ad una cifra pazzesca, 210 milioni spesi dalla formazione di Manchester. Ci spostiamo sul gazzettino per tornare, dopo questa leggera digressione sul mercato, a parlare ancora di quella che è la tematica più calda del momento. Pagina 12 si parla ancora della Dacia Arena, ma sarà sempre Friuli. L'Udinese ha chiesto al Comune di intitolare l'impianto Lo Sponso per cinque anni. La nuova denominazione potrebbe portare 250 mila euro da reinvestire nello sport minore. Si scrive anche la proposta sta alimentando le polemiche all'ero della commissione toponomastica, luogo simbolo, non svendiamo l'identità, quindi continua a essere protagonista di quelle che sono le vicissitudini anche sul gazzettino. Si sottolinea appunto anche la possibilità che possa portare in Troiti. Si sottolinea, c'è questa intervista, a Gianfranco Ellero, tifosissimo, se il Comune vuol vendere il nome di un luogo simbolo, cioè di un pezzo di storia, non posso impedirlo, a me basta poter dire un giorno, ve l'avevo detto, non sarebbe questa la prima volta che lo dico, o meglio lo scrivo, un parere non concorde, ma insomma l'udinese ascolterà tutti quelli che sono i pareri, l'ha detto anche il direttore amministrativo, Alberto Rigotto. Tornando invece a parlare di quella che è la prima di campionato del debutto con la Juventus, scatta quello che è l'allarme che vi abbiamo già mostrato, di cui vi abbiamo già detto, scatta l'allarme legato al regista Ghierme, Ghierme che si è fermato nel corso della giornata di ieri, domani il Juventus Stadium, in brasiliano potrebbe essere sostituito da Pinzi Torchiati, di sei centrocampisti, quindi questo è uno dei temi più caldi, si sottolinea il risentimento all'aduttore, che ha fermato il brasiliano, che verrà sottoposto agli esami strumentali del caso, e si punta su quelli che sono i nomi dei due possibili sostituti, vale a dire, Iturra oppure Giampiero Pinzi, e si sottolinea anche che sembrava troppo bello che l'infermeria bianconiera continuasse ad essere vuota, in effetti questo è un pochino il primo infortunio di un certo peso, dal punto di vista dell'assenza del momento e della portata muscolare, che poi valuteremo ovviamente con l'ausilio anche degli esami strumentali, perché fino a qui l'Udinese ha vissuto una fase precampionato veramente molto molto buona, senza particolari intoppi, purtroppo il primo infortunio che arriva proprio a ridosso della gara importante contro la Juventus, si parla anche poi di quella che è la situazione della campagna abbonamenti, i soci verso quota 10.000, e Fernandez che ci crede, il centrocampista Bruno Fernandez, Lancia inequivocabili messaggi alla Juventus parlando ai microfoni di Etuto Juve, abbiamo fatto bene in Coppa Italia, vogliamo continuare a crescere, assicurato il giovane talento lusitano, fisicamente stiamo bene e siamo molto concentrati per iniziare bene il campionato, affrontare la Juventus per noi è stimolante, perché ci misureremo subito con i campioni in carica, a mio giudizio i bianconeri di Torino restano i favoriti per la vittoria del campionato, perché da 4 anni dimostrano di avere qualcosa in più degli avversari, però le altre grandi che hanno obiettivi ambiziosi si sono tutte attrezzate per provare a vincere, ci sarà più equilibrio. Queste le parole di Bruno Fernandez, ieri ai nostri microfoni ha parlato Simon Wittmann e ve lo faremo ascoltare tra poco, anche grazie all'aiuto della nostra regia laterale destro svizzero, che ha sottolineato come appunto crede di poter andare a Torino a fare una buona prestazione, prima chiudiamo un attimo la parentesi dei locali con il Gazzettino e con Tedino, che parla dei suoi neroverdi, parliamo del Pordenone, l'allenatore che vede i neroverdi con lo spirito giusto, un settebello che annuncia la Coppa Italia, l'ex allenatore Bruno Tedino, arrivato al Pordenone dall'esperienza maturata con le giovanili azzurre, si sottolinea questo settebello perché è arrivato un 7-0 con doppiette di strizzo e decenco, centri di Stefani, mandorlini e finocchio, un test che è servito per preparare l'esordio in Coppa Italia di domani alle 18 al Bottecchia con il Mantova, quindi queste alcune delle indicazioni raccolte dai neroverdi, che sono pronti anche loro a cominciare quello che è il cammino nella rinnovata Lega Pro, un cammino, quello del Pordenone che vuole sicuramente tentare di partire con il piede giusto, così come vuole partire con il piede giusto anche l'Udinese allo Juventus Stadium e da parole di Silva Wittmer, l'Udinese non parte assolutamente da totale sfavorita contro i bianconeri di Torino, ma proverà a fare la sua gara, sentiamo allora le parole dell'esterno svizzero. Noi la affrontiamo come tutte le altre partite, con il massimo impegno e andiamo a Torino a fare risultato, a fare punti e sicuramente loro saranno prontissimi, vogliono partire con il piede giusto, però lo vogliamo anche noi, quindi daremo il massimo e cercheremo di fare punti. La Juventus è una squadra molto forte, anche perché hanno diversi giocatori che possono completare i 11 titolari, quindi hanno un po' di assenze, però rimane una squadra fortissima e sicuramente partiranno a miglia all'ora e noi dobbiamo essere pronti a reagire subito. Quando inizia la partita dobbiamo essere pronti e dobbiamo andare sul campo con il massimo impegno. Chiaramente abbiamo lavorato tanto e ultimamente un po' meno perché vogliamo arrivare la domenica con le gambe fresche, con il cervello fresco e quindi saremo pronti. Io sono convinto che faremo una buona partita e sì, non è mai facile a Torino, però andiamo lì a far bene. Ottimismo e fiducia da parte di Simval Wilber che ha mancato quello che è stato il debutto in Coppa d'Italia per squalifica, ma che adesso è pronto a mettersi a disposizione di mister Stefano Colantuono. Andiamo adesso con un taglio più nazionale a vedere anche cosa scrive la Gazzetta dello Sport che in prima pagina dà ovviamente grande risalto al pronti via della Serie A, la A sottolineata anche con un altro colore, la griglia della Gaza, Pol Juve, Roma vicina, Milan Outsider. Vedremo dopo anche il posizionamento della nostra Udinese, si sottolinea anche i due anticipi che apriranno il nostro calendario dello stivale, a Verona Toni contro il tridente giallorosso, c'è già un giallo terzino con la casa digna in attesa e la Roma dovrà schierare comunque un elemento sulla corsia, mandorlini, noi battuti, non è mica detto. Dall'altra parte la Lazio che vede proprio un ex romanista contro, vale a dire destro, Pioli e Rossi nella sfida dei ricordi più belli, il tecnico della Lazio col Bologna ha ottenuto grandi risultati, intanto Corvino prende Don Sa, queste le mosse di mercato, chi non ha dubbi è Ranieri, si sottolinea nell'intervista che troveremo a pagina 5, sarà l'anno di Garzia, quindi il tecnico dell'Eister che ha avuto un esordio veramente molto molto fortunato in Premier, con due vittorie su due, punta forte su quello che è l'allenatore della Roma. Si parla anche di mercato in spalla, Soriano per Miha, Nocerino da Zenga, oggi a Forte dei Marmi, vertice tra Galliani e Ferrero per chiudere tutta l'operazione, ieri Ferrero ha ironizzato e detto che non ci sarà questo vertice, ma questa sembra essere una trattativa molto molto calda, mentre la Juventus fa quello che viene definito un casting a 3, sale Gundogan, poi Draxler e Mkhitaryan, questi i calciatori nel mirino di Beppe Marotta, e poi l'Inter, Melina Wolfsburg per Perisic, per la fascia sinistra invece spunta Goulam, un settore, quello dell'Inter sulla corsia di sinistra, dove ha molti interpreti, ma dove evidentemente si vuole andare a dare un ritocco per quello che riguarda il ruolo da titolare, una prima giornata che però per l'Inter vedrà evidentemente uno degli elementi a disposizione, visto che le trattative non sono ancora state completate in questo senso. Nella parte bassa poi si parla anche di quelle che sono altre notizie ancora legate al panorama calcistico, mercato, ritiri rossi, Sousa in dieci mosse ha già ribaltato la Fiorentina, e poi le debuttanti Frosinone e Carpi, c'è un vero e proprio sogno delle debuttanti, da Ciotti all'Ambrusco, c'è una pagina dedicata a loro a pagina 21, c'è uno spazio dedicato anche alla Grecia, che se magari per quello che riguarda l'Euro, mantiene ancora la sua posizione per la moneta, crisi, corruzione e violenza, invece l'hanno già portata un po' fuori da quello che è l'Europa che conta nel panorama calcistico. Vediamo poi anche velocemente altre notizie che riguardano sempre gli sport, prima della Gazzetta, ieri Freccia-Rosberg, ma che paura, è esplosa una gomma a 300 km all'ora, e non è sicuramente una situazione normale, è stata chiesta informazione alla Pirelli da parte della Scuderia, e poi il ciclismo con Nibali e Aru, la coppia d'oro che proverà a stupire la Vuelta. Vediamo anche il rompipallone di Genegnocchi, dedicato a Cassano, con Zenga e tutto a posto, sarà il mio vice, ovviamente ruoli un po' differenti per quello che riguarda la realtà, ma sarà un rapporto molto molto interessante da seguire, quello tra Cassano, che ieri si è ripresentato in conferenza stampa, e il suo tecnico Walter Zenga. Si riparte così, pagina 2 e 3, la Gazzetta dello Sport prova a stilare, anche un po' in stile Formula 1, quella che è una griglia di partenza, e l'Udinese viene collocata al dodicesimo posto. Vediamo proprio questa griglia, anche con l'ausilio dei protagonisti. Davanti a tutti c'è ancora una volta la Juventus, rappresentata e raffigurata da Paul Pogba, poi la Roma al terzo posto, viene piazzato al momento il Milan, con Carlos Bacca subito dietro a Gekko, poi c'è Higuain con il Napoli, Icardi per l'Inter, Borja Valero della Fiorentina, Felipe Anderson a Lazio scala addirittura al settimo posto, dopo un campionato importante, si sottolinea come le rivali sembrano cresciute di più, nella colonna virtuale di sinistra della classifica, ci sono anche Quagliarella del Toro, Pandev e Berardi, l'Udinese si trova appunto con il solito Totò di Natale, alla casella 12, si scrive dell'Udinese qualche scivolone di troppo tra luglio e agosto, ma il 3-1 al Novara in Coppa ha riportato il Sereno, questo è il modo in cui viene battezzata l'Udinese, poi continuiamo a vedere questa possibile graduatoria con il Verona, subito dietro ai Bianconeri, rappresentato da Toni, poi Vasquez per il Palermo, c'è destro per il Bologna, Denis per l'Atalanta, a chiudere le ultime quattro posizioni, il Chievo con Paloschi, poi Matos per il Carpi, Saponara per l'Empoli, l'Empoli nonostante la scorsa stagione evidentemente Sari viene considerata una perdita molto importante, viene incastrato come penultima, è lungo per il Frosinone alla casella numero 20, quindi questa è una griglia molto molto lunga e intensa, giusto per completare quella che è l'analisi, visto che abbiamo trovato Paul Pogba e non ci sorprendiamo in Veta, vediamo anche quello che si scrive della Juventus, la nostra prossima avversaria, perché si sottolinea il peso di chi è partito è enorme, ma la fame è quella di sempre, e la Supercoppa, sottolinea la Gazzetta dello Sport, insegna già qualcosa alla Roma, che da alcuni viene sottolineata come la principale avversaria, si dice, acquisti da urlo ed euforia a mille, ma ridurre il gap non vuol dire azzerarlo, quindi queste le situazioni per quello che concerne un po' i nastri di partenza, dicevamo anche di un'intervista realizzata con Ranieri, tecnico dell'Ester, partito molto bene con la sua formazione in Inghilterra, sarà l'anno della Roma, questo il parere, allenato sette squadre in Serie A, tra cui Roma, Juventus e Inter, vivono un bel momento, ed è osservatore privilegiato, fa le carte al nostro campionato, vediamo velocemente anche altri giudizi, quello su Mijailovic, il Milan di Sinisa mi intriga molto, è la terza forza dopo Juve e Roma, subito sotto si parla di Mancini, il precampionato non conta, mi fido dell'esperienza di Roberto, e poi ancora parla di Sarri, Sarri meritava la A molto prima, il suo Napoli arriverà lontano, quindi un plauso al tecnico, ma abbiamo visto anche dalle pieghe della Gazzetta, si percepisce anche quella che è la fiducia che viene data a Sarri, il suo Empoli, senza di lui e senza peraltro anche qualche tassello, partito qua e là, è finito molto in basso nelle gerarchie di partenza, si parla anche un po' in generale del futuro, i presidenti che vengono un po' avvisati da Tavecchio, siete avvisati, è l'ultima estate pazza, molto duro il monito del presidente FGC, dal prossimo anno regole chiare, chi non le rispetta non potrà acquistare gli arbitri, siamo nelle loro mani, si sottolinea con questa intervista a Tavecchio quelle che sono le regole che dovranno rispettare le formazioni a partire dal prossimo campionato, si evidenzia ovviamente quello che è un regime di fair play che dovrà essere protagonista anche per quello che concerne un po' tutte le formazioni, oltre alle novità dall'occhio di Falco al tetto delle rose, ecco cosa cambierà, installate le telecamere per i gol fantasma, gli organici si allineano alla normativa UEFA, a sette telecamere, zero dubbi, visto quanto accaduto l'anno scorso all'Udinese, questo è un aspetto decisamente positivo. Sciogliamo velocemente anche con le altre pagine della Gazzetta dello Sport per arrivare non tanto agli anticipi, visto che siamo quasi in chiusura con il nostro appuntamento, vediamo velocemente la pagina dedicata alla Juventus con i segnali di mercato da Drax, Sermon, Rosale e Gundogan, Mu attacca Max, parla sempre dei miei giocatori, si è un po' arrabbiato, Mourinho che evidentemente non ha gradito il pressing sui suoi elementi, queste le indicazioni più importanti per quello che riguarda il mercato, vediamo anche quella che è la probabile formazione sia della Juventus che dell'Udinese, una formazione della Juve che si schiera a specchio con il 3-5-2, con Buffon in porta, Barzagli, Bonucci e Caceres, la Gazzetta vede Caceres favorito su Chiellini che ha rientro dopo l'infortunio, Licksteiner, Sturaro, Padoin, Pogba, Evra, la linea mediana con il friulano Padoin che dovrebbe fungere da regista, Mandzukic e Di Bala, i due riferimenti offensivi. Di fronte, l'Udinese con l'ipotesi del 3-5-2 che vede andare a sostituire l'infortunato Ghirme da Iturra con Carnezi si importa, Piris, Danilo e Derto in difesa, il centrocampo con Adnan Fernandes, il cileno già citato centrale, Badu e Edenilson, davanti Terò a fare da spalla a Totò di Natale. Questa l'ipotesi di formazione per quello che concerne la Gazzetta dello Sport. Scivoliamo sulle prime degli altri quotidiani prima di darvi anche una notizia dal panorama del web. Vediamo il Corriere, voglia di gol, c'è subito Dzeko contro Toni, mentre Garzia lancia anche Salah, Kisna con Keita, Pioli vuole tre punti da De Giorossi, queste le tematiche degli anticipi. Lo spettacolo che comincia, riparte ovviamente la caccia alla Juve, per le milanesi invece mercato scatenato, Soriano e Perisic, uno per il Milan, l'altro per l'Inter, Juve tra Draxler e Mkhitaryan, e i City che spende 70 milioni per De Bruyne. Vediamo anche la prima di tutto sport, la Juve sceglie uno tra Draxler e Mkhitaryan, pronto il Blitz in Germania, Marotta vuole centrale grande colpo. Entro mercoledì la missione tedesca va per accontentare Allegri e prevede nuovi decisivi contatti con lo Schalke e il Borussia Dortmund. Sullo sfondo rimane comunque anche l'ex Udinese Quadrado, domani Chiellini disponibile, ma dovrebbe partire in panchina. Poi si parla anche di Torino, subito sotto la testata, Glick rinnoverò con il Toro, Cairo, Procic forse e Amaury, puntini e puntini. Roma e Lazio rilanciano la caccia allo scudetto e partono da questa sera. Il Milan che non si ferma, Mia avrà Soriano, eppure Mister X, poi si parla di Perisic, di Cassano, c'è Trotta, che diventa un'idea del Palermo in coppia con Gilardino, e Allan, il leader dell'Ital Rugby contro la Scozia. Non si parla di quello che è il nostro ex giocatore passato al Napoli, ma di quello che è un elemento invece che ha fatto parte della spedizione dell'Ital Rugby. Vi promettevo però una notizia dal panorama del web, allora andiamo velocemente anche con la nostra postazione a vedere quella che è una notizia. Il titolo è dedicato all'Atletica, ai mondiali di Pechino 2015, il primo oro va all'Eritrea, ma c'è anche uno splendido quarto della maratona, lo vedete come da titolo, e andiamo allora a leggere anche questa notizia che riguarda Pertile, perché per i colori azzurri è arrivato uno splendido quarto posto distante, l'Atleta Azzurro quasi un minuto dal podio, ma grande protagonista di tutta la gara insieme a Daniele Meucci, ottavo sul traguardo. La gara che è stata vinta dal giovane Girmai Geberzelassi, non ancora ventenne, che ha chiuso con il tempo di due ore e dodici minuti e ventisette secondi, però è sicuramente partita bene anche quella che è la spedizione azzurra. Siamo in chiusura con la nostra rassegna stampa sportiva, la linea che torna alla programmazione, vi ricordiamo anche quello che è il prossimo appuntamento, alle dodici e quindici, la conferenza stampa, la prima precampionato del mister Stefano Colantuono, come sempre, Dignese Channel si collegherà qualche minuto prima per andare ad analizzare, poi ascoltare, tutte le parole del tecnico alla vigilia del debutto in campionato. Buon proseguimento sempre che con noi con Dignese Channel. Buona giornata. Buona giornata.